Una sola lista presentata per il rinnovo del CDA di Banca Etruria nel triennio 2014-2016 che dovrà essere votata nell'Assemblea dei Soci che si terrà il 4 maggio in seconda convocazione. Il presidente uscente Giuseppe Fornasari non c'è e capolista è l'attuale vicepresidente della banca e presidente della cooperativa attiva nelle costruzioni la Castelnuovese. Lorenzo Rosi sarà quindi presidente mentre l'ex direttore generale Alfredo Berni è terzo. In lista anche l'attuale consigliere Pierluigi Boschi, già presidente di Conf Cooperative Arezzo e padre del ministro Maria Elena. Aumentata la componente femminile limitata prima a una sola presenza, oggi sono 4 nomi su 15 tra cui la presidente di Conf Commercio Anna Lapini che in lista figura con il cognome da nubile Anna Maria Nocentini. L'istituto si trova in una fase delicata sotto il pressing della Banca d'Italia che ha imposto forti svalutazioni che hanno portato il bilancio 2013 in rosso di 70 milioni di euro, mentre più volte è stato al centro di voci per una possibile acquisizione o fusione. Di Lorenzo e Rosi hanno recentemente parlato le cronache avruzzesi per il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo in concorso nel processo per la morte di una bambina di 5 anni travolta da una statua di bronzo all'interno dell'Outlet Village di città Sant'Angelo. Rosi è finito a giudizio in qualità di responsabile tecnico della società Pescara Outlet.